Le selve domestiche. Ma cosa sono le selve domestiche? In natura la selva è quel posto dove crescono piante e arbusti in maniera molto spontanea, crescono, si intrecciano in una confusione di foglie e di rami. La selva domestica è un po' quello, è la nostra casa dove noi cresciamo e cresciamo a volte in maniera confusionaria, a volte in maniera più ordinata, in una raccolta, un accatastamento di oggetti, ma anche con un intreccio di legami, i legami che si creano tra gli abitanti di questa selva, quindi di emozioni, di abitudini. La selva domestica praticamente è la nostra casa e non è solo la casa dell'abitare, è la casa del focolare, è la casa della tana, del posto segreto. E mai come in quest'anno abbiamo esplorato le nostre case, abbiamo ricercato qualcosa all'interno di esse oppure abbiamo scoperto luoghi e particolari che ancora non sapevamo. Quindi le selve domestiche in realtà sono tutte le nostre case.